La mia presentazione è intitolata Test delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici con l'adattatore Amprove EV500. Ma prima di tutto mi presento, mi chiamo Roberto Pogliato e sono responsabile per il supporto tecnico per l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Lascio la mia e-mail e il mio cellulare nel caso che avviate domande tecniche in futuro oppure se volete la presentazione in formato PDF oppure il link per rivedere la presentazione video del seminario nel caso in cui qualcuno abbia dovuto andarsene prima di finire. Anche c'è la possibilità di scaricare alcuni documenti, credo che alcune persone lo hanno fatto già, ma nel menu della piattaforma è possibile scaricare già la presentazione di l'ovato e anche il dataset di questo adattatore di flucche. Per cominciare, come una installazione di ricarica per veicoli elettrici e una installazione elettrica, dobbiamo prendere in considerazione la normativa esistente. In relazione alla verifica di un'installazione elettrica, per quanto riguarda i test che devono essere eseguiti, dobbiamo considerare i capitoli 61 e 62 nella parte 6 della norma CEI 64-8. Tra questi test possiamo menzionare per esempio il test di continuità dei conduttori, la resistenza di isolamento, la protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione, la prova di polarità, prova dell'ordine delle fasi e il capitolo 62. ci parla della misura della resistenza di isolamento, la prova di continuità dei conduttori di protezione, la verifica degli elementi contro i contatti indiretti e la prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di controllo. E se consideriamo gli aspetti specifici delle installazioni di ricarica per il veicolo elettrico, oltre a quanto visto in precedenza, dobbiamo considerare la sezione 722 della norma, dove ci indica che c'è il punto di ricarica e che se il punto di ricarica non utilizza una protezione mediante separazione elettrica, si deve usare un differenziale almeno tipo A, e come ha menzionato già Arrigo, con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA. Ma dopo, come si parla della protezione contro i guasti a terra in corrente continua, il differenziale dovrebbe essere tipo B oppure un differenziale tipo A con un dispositivo di rilevazione della corrente CC superiore a 6 mA. In questo senso direi che il differenziale tipo B e gli A incorpora questa protezione di continua. Per questo motivo, se si usa una protezione tipo A, si deve incorporare in qualche senso una protezione per una corrente differenziale tipo CC. Per quanto riguarda le installazioni di veicoli elettrici, questo tipo di installazione deve essere conforme alle norme generali per le installazioni elettriche, ma ci sono anche sezioni specifiche come la CEI 648, sezione 722, o delle norme internazionali che fanno riferimento a elementi particolari della installazione come connettori, protocolli di comunicazione tra il punto di ricarica e il veicolo elettrico, ma l'installazione elettrica di un punto di ricarica è un po' speciale dal punto di vista delle prove da eseguire, nel senso che per la maggior parte ne sono intelligenti e non forniscono tensione alla loro uscita, a meno che non rilevino un veicolo collegato. Quindi si deve usare un adattatore che simula la presenza di un veicolo elettrico collegato per eseguire i test e controlli tempestivi. Come possiamo vedere nella figura, la colonna di ricarica ha un contatore, un contactore, che collega o disconnetta l'alimentazione alternata al veicolo, se è una colonna di corrente alternata. Il sistema di ricarica collegherà l'alimentazione alla sua uscita una volta che rileva che una macchina è con essa e quale corrente massima supporta il cavo utilizzato. Esistono sistemi di ricarica monofase o trifase come già abbiamo visto. Nonostante il fatto che nel mercato ci siano sia punti di ricarica in tensione AC sia DC, per questa presentazione considererò solo i punti di ricarica in tensione AC perché sono attualmente i più comuni. Inoltre, nelle immagini possiamo vedere un connettore tipico per il collegamento al veicolo. Si mostra il connettore tipo 2 o denominato Meneches, utilizzato principalmente in Europa. Possiamo anche vedere i collegamenti di detto connettore, ad esempio la fase 1, la fase 2, la fase 3, neutro e terra e inoltre due segnali di controllo chiamati Control Pilot e Proximity Pilot che vedremo più avanti in questa presentazione. Pertanto, come abbiamo già indicato, per attivare l'uscita della colonna di ricarica deve essere utilizzato qualcosa che simula un veicolo elettrico. Questo elemento è un adattatore che permette di attivare l'uscita e avere così accesso alle tensioni e ai segnali. Fluke offre l'adattatore Amprove EV500 che collegato a una stazione di ricarica avvia il processo di ricarica. Così è possibile simulare varie correnti massime per il cavo di collegamento del veicolo. Per esempio, se non è collegato, questo diciamo aperto, 13A, 20A, 32A, 63A e anche è possibile simulare lo stato del veicolo elettrico. Inoltre, questo adattatore consente un facile accesso ai terminali di ricarica L1, L2, L3, neutro e terra e ai terminali di segnale Control Pilot per collegare ulteriori strumenti di misura. Ma per collegare l'adattatore EV500 alla colonna di ricarica possiamo usare il cavo tipo 2 somministrato di serie che si può collegare direttamente ad una presa fissa sulla colonna oppure al connettore del cavo di ricarica se la colonna ha questo cavo. È anche possibile acquistare un altro cavo di collegamento per una stazione con una uscita tipo 1. Qui possiamo vedere come con lo stesso cavo dell'adattatore possiamo fare il collegamento alla presa della colonna oppure al cavo di ricarica della stazione perché in entrambi i casi il sistema di ricarica utilizza lo stesso connettore. Ok, la selezione dello stato operativo del punto di ricarica viene effettuata tramite l'interruttore Control Pilot. Con il selettore di stato Control Pilot è possibile simulare i vari estati del veicolo quando l'adattatore di prova è collegato alla stazione di ricarica. Gli estati del veicolo sono simulati con resistori diversi collegati tra i conduttori Control Pilot e Terra. La correlazione tra la resistenza e gli estati del veicolo è mostrata nella tabella. Come possiamo vedere sono definiti quattro stati. Stato A. Veicolo elettrico non collegato al punto di ricarica. Stato B. Veicolo collegato e rilevato per la colonna di ricarica ma ancora non si ricarica la batteria. Stato C. Veicolo in ricarica. Stato D. Il veicolo richiede alla stazione di ricarica l'attivazione di ventilazione perché il veicolo ha rilevato la presenza di gas a causa del processo di ricarica chimica. Questo valeva per le vecchie batterie per esempio al piombo acido. Questo cambio di stato è gestito con il segnale Control Pilot che come abbiamo visto all'inizio della presentazione era disponibile nella spina di collegamento fra la colonna e il veicolo. In questo connettore c'era un altro segnale chiamato Proximity Pilot che serve per rilevare il collegamento del veicolo alla colonna ma anche per codificare la massima corrente che il cavo può sopportare tra la colonna e il veicolo. Addizionalmente serve anche per rilevare l'attivazione del tasto di disconnessione del connettore e iniziare uno spegnimento controllato del caricatore batteria del veicolo prima della effettiva disconnessione dei connettori di alimentazione in modo da evitare gli archi elettrici in caso di disconnessione del connettore a causa della corrente di ricarica. Pertanto, prima di essere scollegato il connettore, la colonna invia un segnale di forma che il veicolo smette di caricare la batteria. Dobbiamo considerare che è il veicolo chi regola la corrente che proporziona la colonna. È il veicolo chi regola la corrente che proporziona la colonna. Quello che può fare la colonna è interrompere l'alimentazione se viene superata la capacità di corrente del cavo oppure la corrente massima della sua protezione interna. Per rilevare questa corrente massima del cavo viene utilizzata una resistenza RC inserita nel connettore del cavo di collegamento del veicolo e con valori che possono variare come indicato nell'allegato B della norma IEC 69.851.22. La relazione fra il valore della resistenza e la corrente massima del cavo è codificata attraverso la tavella che vediamo d'accordo a questa norma. Con il selettore rotativo di stato Proximity Pilot della tattoria Amprove EV500 è possibile simulare varie correnti di ricarica quando la tattoria di prova è collegata alla stazione di ricarica. È possibile simulare varie correnti di massima del cavo, non di ricarica ma la corrente massima supportata dal cavo. Le capacità attuali sono simulate con diversi resistori collegati tra i conduttori di Proximity Pilot e Terra. Per gestire la corrente massima che può domandare il veicolo c'è una comunicazione molto basica e che Arrigo già ha commentato. È una comunicazione molto basica fra la colonna e il veicolo attraverso il segnale Control Pilot. Per questo motivo l'adattatore Amprove EV500 ha due connettori di tipo banana nella sua parte superiore dove si può collegare un multimetro oppure un oscilloscopio come il Fluke 125B. La funzione Control Pilot utilizza un segnale di modulazione di larghezza di impulso, quello che in inglese è denominato PWN, Pulse Width Modulation, per codificare la regolazione della corrente di carica. Lo scopo della funzione Control Pilot è la comunicazione tra il veicolo e la stazione di ricarica. Il ciclo di lavoro, oppure duty cycle in inglese, del segnale PWN definisce la possibile corrente di ricarica massima. È la colonna di ricarica che informa al veicolo della sua capacità di fornire un certo livello di corrente a seconda di questo ciclo di lavoro del segnale. Per esempio, se la lunghezza della parte superiore del segnale è uguale alla parte inferiore, questo è un ciclo di lavoro del 50%, perché sono uguali. La corrente di carica massima in questo caso è di 30 A, come si vede nella prima riga della tabella a sinistra. Riducendo la lunghezza della parte superiore del segnale, la colonna informa al veicolo elettrico che deve ridurre la corrente che assorbe per ricaricare la batteria. E questo lo vediamo nelle due immagini più a destra. Nella tabella E possiamo vedere più in dettaglio questa relazione fra i duty cycle e la corrente massima che può assorbire il veicolo. Ok, ora possiamo vedere più in dettaglio lo stato di ricarica. Iniziamo con lo stato A, in cui il veicolo non è collegato, quindi la manopola del proximity pilot deve essere in posizione 0. Quindi non c'è collegato un cavo e la manopola control pilot in posizione A. In questa situazione il segnale control pilot proporziona una tensione di 12 volts che possiamo misurare attraverso le banane nella parte superiore dell'adattatore per controllare che la colonna lavora bene. Adesso possiamo girare il controllo proximity pilot, per esempio per eseguire una corrente di 32 ampere, e il controllo control pilot sulla posizione B. In questa posizione la colonna non chiude ancora il contactore per fornire energia al veicolo, poiché deve prima informare il veicolo della massima corrente che può assorbire. In questa situazione il segnale control pilot è ora un segnale pulsante che va da 9 volts, 9 volts positivi, fino a meno 12 volts negativi, con una frequenza di 1 kHz. Quindi adesso non abbiamo una tensione fissa, come nella situazione precedente, ma abbiamo un segnale con un'ossillazione di 1 kHz, come abbiamo visto, e una tensione superiore di 9 volts e una tensione inferiore di meno 12 volts. E questo lo possiamo vedere con l'ossilloscopio. Adesso il veicolo già sa la corrente massima che può domandare per evitare la sovraccarica della colonna e per indicare alla colonna che chiuda il contactore di potenza, il veicolo collega una resistenza di 1,3 kHz, di forma che la resistenza tra il segnale control pilot e terra sia di 880 ohms. Questo si fa quando rotiamo la manopola alla posizione C. Questo fa modificare la tensione del segnale control pilot a 6 volts positivi, meno 12 volts negativi e anche la frequenza di 1 kHz. La colonna adesso chiude il contactore. Il veicolo inizia la ricarica dalla batteria e controlla la corrente domandata. Ok, come abbiamo detto, alcuni veicoli possono utilizzare batterie il cui processo di ricarica può portare all'emissione di idrogeno, principalmente batterie al piombo acido che non sono molto usati ora. In questo caso il veicolo può informare alla colonna della necessità di ventilazione quando lo ritiene necessario sulla base, ad esempio, degli algoritmi di ricarica. Per comunicare questa situazione il veicolo modifica la resistenza tra control pilot e terra a 246 ohms, facendo essendere la tensione in control pilot a 3 volts positivi, meno 12 volts negativi e ancora 1 kHz. La colonna ora può attivare una ventola e continuare con la ricarica, ignorare, ignorare il segnale se si trova per esempio il punto di ricarica in un'area esterna o attivare un'allarme e interrompere la ricarica, ma questo dipende dalla colonna e la sua installazione. Ma la norma prevede questa situazione di forma che è necessaria la ventilazione dell'area dell'espaccio. In caso di malfunzionamento è possibile generare una condizione di errore attraverso il connettore control pilot cortocircuitando i terminali control pilot e terra a secondo dello standard IEC N61851-1. Questo errore lo possiamo simulare con il pulsante errore control pilot che è nell'alattatore e il processo di ricarica è sospeso e deve essere interrotto e vengono impediti nuovi processi di ricarica. Quindi in una situazione d'allarme è se la macchina ha un problema può generare questo errore e la colonna deve interrompere il processo di ricarica. E lo possiamo simulare con questo tasto sul adattatore. Ok, in questa slide possiamo vedere un riassunto di tutto il processo con l'evoluzione del segno control pilot a seconda dello stato di ricarica e nella tabella inferiore possiamo anche vedere questo segno, la frequenza, la tensione e le resistenze utilizzate per questo processo di comunicazione fra la colonna e il veicolo. E come vediamo è una forma di comunicazione molto basica ma se lavora bene, perché no? In sintesi per testare l'installazione in tensione dobbiamo semplicemente utilizzare i selettori rotativi dell'alattatore per codificare la corrente massima del cavo e selezionare lo stato C in modo che il veicolo sia caricato dalla colonna e così avremo già tensione alla uscita per fare le prove. Come vediamo nella immagine, l'alattatore fornisce connessioni a banana sul lato anteriore per tutte le tre fasi, neutro e terra, con indicatori LED per mostrare la presenza di tensione. Quindi con questo adattatore una volta che abbiamo la tensione è molto facile vedere questa situazione. Adesso possiamo vedere alcuni esempi di uso dell'alattatore EV500 insieme con il comprovatore multifunzione Fluke 1664 FC. Per esempio per fare la prova della continuità del cavo di protezione di terra, molto importante, possiamo controllare che tutta la connessione di terra arriva al connettore di uscita e così capire che l'installazione è protetta dal punto di vista della terra. Dopo aver controllato che il cavo di terra ha continuità e con l'installazione sotto tensione possiamo verificare che realmente il cavo di terra sul connettore non ha tensione per un errore posteriore. Questo lo possiamo fare semplicemente toccando un LED trodo e verificando se si accende un LED rosso. Se per esempio ha una tensione piccola il LED, la intensità del LED sarà minore, se la tensione è maggiore la intensità del LED sarà superiore. Così possiamo capire che c'è qualche problema e che il cavo di terra ha qualche tensione pericolosa. Quindi questo è il primo processo di verifica. Se tutto va bene, ora possiamo collegare il tester multifunzione Fluke 1664 FC a questo adattatore per eseguire i test come con qualsiasi altra installazione. Ad esempio, possiamo misurare tutte le tensioni e vedere se sono corrette e se c'è qualche problema di esquilibrio di tensione oppure una tensione elevata fra neutro e terra. Possiamo fare la prova della sequenza o rotazione di fase per un sistema trifasico, l'ordine delle fasi deve essere corretto. Anche la prova di resistenza dell'anello di terra che a volte è una misura sostitutiva per la misurazione della resistenza di terra quando non è possibile utilizzare i picchetti ausiliari. Con questa prova possiamo vedere anche la corrente che dovrebbe supportare il differenziale durante un contatto diretto fase-terra. La prova di resistenza di anello di linea ci proporciona anche il valore della corrente di cortocircuito e che è importante per verificare la corretta scelta del magneto termico oppure dei fossibili dal punto di vista del potere di taglio della protezione e la grafica di attivazione. Possiamo fare anche la prova del differenziale ma in questo caso dobbiamo avere accesso all'interno del punto di ricarica per resettare il differenziale una volta che è stato attivato. In questo senso la prova di un differenziale ha due aspetti a considerare. da una parte il tempo di attivazione e da altra parte la corrente di attivazione quando facciamo una prova con una corrente che aumenta gradualmente sotto forma di una rampa. Finalmente, se il punto di ricarica è per un uso comunale oppure pubblico dovrebbe incorporare un contatore di energia e in questo senso il attatore Amprove EV500 ha una presa sul retro di forma che possiamo collegare ed alimentare una carica piccola fino a 10A per esempio per esempio un asciugacapeli e per controllare che il contatore di energia effettivamente conta l'energia consumata. In questo modo possiamo verificare che il circuito del contatore sembra corretto. non è una calibrazione è semplicemente una verifica che il contatore di energia realmente sta funzionando correttamente. Ok, per finire possiamo fare un riepilogo delle funzioni dell'attatore EV500. Prima fare un pretest della connessione di terra controllando la presenza potenziale di una tensione pericolosa sul terminale di terra per esempio un errore nella installazione. Secondo, possiamo verificare come già ho detto la tensione trifase è fra neutro e terra. Possiamo simulare il segnale proximity pilot per controllare per diciamo impostare una corrente massima del cavo simulare il segnale control pilot e con questi due segnali possiamo verificare che la colonna lavoro lavora d'accordo a quello che dice lo standard. Ok? Possiamo simulare un errore del segnale control pilot con un pulsante anche possiamo simulare un errore di collegamento terra fra la colonna e il veicolo con un pulsante questo anche molto importante si deve controllare che non c'è qualche problema di terra che la terra è connexa fra la colonna e il veicolo e questo lo possiamo simulare per vedere se la colonna ha un comportamento corretto nella situazione che questa terra non è collegata questo lo possiamo simulare con questo pulsante possiamo anche analizzare il segnale control pilot con un strumento come per esempio un oscilloscopio per capire se la comunicazione tra la colonna e il veicolo è corretta possiamo anche verificare il contatore di energia con una presa di corrente sul retro per collegare un carico esterno insieme al tester di installazione Fluke 1664 FT possiamo fare un test di continuità misurare la tensione di fase a terra la rotazione di fase anche verificare la impedanza di loop e di linea e fare il test dei differenziali ok ora possiamo vedere alcuni degli strumenti che Fluke raccomanda ai tecnici dell'installazione elettrica per fare questo tipo di prova senza dubbio come abbiamo visto il più importante è l'adattatore EV500 che può lavorare anche con il comprovatore multifunzione Fluke 1664 FT altri strumenti da considerare per l'uso quotidiano per verificare un'installazione anche per un'installazione di ricarica e una pinza amperometrica per controllare la corrente anche per esempio una pinza una pinza per esempio di dispersione per controllare effettivamente la corrente di dispersione a terra come la Fluke 369 FC anche possiamo utilizzare un analizzatore di energia per controllare la potenza demandata dalla colonna e anche per esempio un rilevatore di tensione per fare una prova basica se c'è tensione per esempio in un cavo qui possiamo vedere il comprovatore multifunzione Fluke 1664 FC in modo più dettagliato e che consente di eseguire tutti i test che abbiamo visto in questa presentazione quindi lascio questa slide per se nel futuro hanno bisogno di questo questo istrumento e finalmente qui possiamo vedere il documento di dati tecnici dell'attatore che abbiamo caricato su questa piattaforma in modo che sia possibile scaricarlo e per finire qui possiamo vedere alcune promozioni commerciali in corso come pincia amperometrica con un tester di tensione gratis oppure il multifunzione Fluke con un multimetro e software gratis la termocamera la nuova termocamera PTI 120 con una torcia ATEX gratis e multimetri con custodia morbida anche gratis e così siamo arrivati alla fine di questa presentazione di questa presentazione Grazie.